Dopo il rinvio del 26 luglio scorso a causa maltempo, ieri nella splendida cornice di carezza si è disputata la 21esima edizione della Sanfter Cup. Momenti di apprezzione nel primo pomeriggio per uno sgroscio d'acqua che tuttavia non ha compromesso fortunatamente lo svolgimento della manifestazione. Ad avere la meglio tra i 126 golfisti iscritti che si sono dati battaglia sulle 18 buche è stato il professionista Emanuele Bolognesi che ha chiuso in 69 colpi segnando quindi un meno uno. Secondo classificato Antonio Severa con 70 colpi e terzo John McKenzie. Sono quelle manifestazioni che fanno piacere a tutti, a noi professionisti perché ci sono sempre dei soldini e quindi il monte premi ci fa a cuolina e poi i dilettanti che comunque è un piacere vederli giocare su un campo che tecnicamente l'ho trovato abbastanza difficile e devi conoscere. Nella prima categoria successo invece del portacolori del club di Vipiteno Florian Hofer mentre nella seconda categoria è arrivata la vittoria di Beatrix Reiter appartenente al club Passiria. Nella terza categoria in primo piano grazie ad un'ottima prestazione Simone Brigadoi del club Dolomiti. La giornata oggi era meravigliosa perché non c'era la pioggia, il sole non batteva troppo, abbiamo giocato secondo le nostre capacità di giocare, siamo soddisfatti. È un torneo che piace soprattutto ai miei amici dell'Alto Adice, qualche amico anche dall'Austria, dalla Germania, qualche amico da Modena, ma comunque è un torneo molto appassionante perché è sempre affolato, è affolatissimo e siamo contenti di poterlo fare.